Affrontare le situazioni di crisi aziendali è questa una delle priorità del nuovo prefetto di Como, arrivato lunedì al Palazzo del Governo di Via Volta. Nella prima intervista Bruno Corda parla di economia, infiltrazioni mafiose e furti in casa, ma parte proprio dalla crisi. Innanzitutto le situazioni di crisi che si stanno verificando sul territorio sono numerose, riguardano tanti strati dell'attività economica che viene svolta qua su questo territorio, vedo che la crisi ha colpito trasversalmente l'economia. È un'economia variegata, per cui certo ci sono degli alti e bassi, a seconda naturalmente dell'attività produttiva di cui noi stiamo parlando, ma certamente le crisi economiche sono un primo fattore che va affrontato. Legata a doppio filo all'economia è la questione delle infiltrazioni mafiose nelle aziende e negli appalti, tema sul quale il nuovo prefetto avrà una riunione già nelle prossime ore. Domani mi incontrerò con il Procuratore della Repubblica e con il Presidente del Tribunale, proprio perché dobbiamo trovare una linea d'azione che sia assolutamente efficace su questo fenomeno. L'attività e l'infiltrazione da parte della criminalità organizzata è un qualche cosa che nasce in modo molto veloce e quindi anche i settori che non sono infiltrati o che non lo sono ancora lo possono essere in modo molto rapido. L'appello di Bruno Corda è alle associazioni di categoria. Mi aspetto una grandissima collaborazione da parte delle associazioni di categoria, che prime sul territorio hanno dei sensori che sono poi i propri associati evidentemente e che devono essere nella condizione di segnalare le situazioni di anomalia che si verifichino. Ognuno fa la propria parte. Infine i furti in casa, un vero allarme nella provincia di Como sul finire del 2013, al punto che in alcuni comuni, come Lipomo, gli abitanti si sono organizzati in ronde spontanee. Se i cittadini vogliono collaborare, dice il prefetto, esistono modalità precise e codificate dalla legge, ma in nessun caso bisogna sostituirsi alle forze dell'ordine. Non è condivisibile la creazione di queste situazioni fai-da-te nella quale le persone vanno a fare la ricerca autonoma di soggetti o presidiare il territorio a posto delle forze di polizia. I cittadini, aggiunge il prefetto, possono collaborare in un altro modo segnalando le situazioni anomale. Guardate, chi fa attività di questo genere, chi fa i furti nelle case, non è qualcuno che viene paracadutato improvvisamente sul territorio. È qualcuno che il territorio inizia a conoscerlo per parte propria. Quindi frequenta il territorio, gira, controlla, verifica. Quindi ci ritroveremo davanti a dei soggetti che sono individuabili sul territorio innanzitutto. E vengono individuabili di giorno, non sono persone che arrivano così all'ultimo momento a fare di queste operazioni. Il prefetto Corda ha anche illustrato un piano di azione contro la criminalità strutturato in tre punti. Potenziare i sistemi di videosorveglianza in diretta del territorio, un progetto di scambio di informazioni tra Vigilanza Privata e Forza dell'Ordine e infine un sistema già avviato in altre zone d'Italia che permette agli agenti di vedere in tempo reale quel che accade nei negozi colpiti dai malviventi. Grazie a tutti.